ciao ringo sono valentino rossi niente ti chiamavo per fare scusa ciao sono mar marquez sono valentino giovanni di pillo no 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 guarda sono valentino rossi hai sbagliato numero a posto ma devo riferirgli qualcosa di pillo a vi sentite sette volte al giorno vi arrangiate voi va bene ciao 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 no no ma dai la manata fuoco la manata